In queste ultime ore sono emerse delle presunte cifre riguardanti il contratto quadriennale siglato dal conduttore Fabio Fazio con Discovery. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fazio avrebbe firmato per un totale di 2,5 milioni di euro, a stagione per 4 anni, arrivando quindi a un complessivo di 10 milioni di euro. Queste cifre sembrano superare quelle del suo precedente contratto con la RAI, come dichiarato dallo stesso Fazio, che prevedeva un guadagno di 2,240 mila euro l'anno per 4 anni, con un totale di 8,960 mila euro. Non ci sarebbe nulla di anomalo se si considera il diverso standard retributivo tra settore pubblico e privato. Inoltre, a differenza del suo ruolo precedente, con Discovery Fazio avrà non solo il compito di conduttore in prima serata, ma anche una responsabilità editoriale.